In contrasto con le informazioni che ci arrivano sia direttamente che dai media sui danni che provocano i vaccini anti-covid, ci stupisce vedere l'accanimento con cui alcuni presidi degli istituti pesaresi chiedono di rendere obbligatorio il Green Pass anche per i loro studenti. Inizia così la lettera scritta e firmata dal professore Angelo Antonioni, da Jenny Gaia Ficcadenti, referente del movimento La Scuola che Accoglie, Lisetta Sperindei, consigliera comunale di Pesaro, ed Eugenia Blasi, presidente del Comitato Tecnologie Sicure. Il loro è un chiaro riferimento, tra gli altri, al dirigente Riccardo Rossini che aveva sollecitato l'obbligo del certificato verde anche per gli alunni delle superiori per eliminare la DAD, una proposta che aveva trovato consensi da parte di alcuni colleghi ma che trova contrari invece i firmatari di questa lettera. Anche il preside dell'Istituto Classico Mamiani, Roberto Lisotti, pur dichiarandosi d'accordo in teoria, aveva rammentato l'obbligo di attenersi al rispetto della privacy e alla salvaguardia del principio che la scuola deve accogliere tutti. Per quanto riguarda il Green Pass in sé per sé, che è ottenibile anche tramite tampone, è facilmente intuibile che difficilmente un ragazzo si sottoporrà a una, tra virgolette, tortura del genere in maniera continuativa e che chiaramente anche per le famiglie diventerebbe un notevole sborso economico. Quindi probabilmente tenderebbe poco dopo a propendere per la vaccinazione. Questo discorso della vaccinazione in realtà per le fasce più giovani non ha molto senso, perché le percentuali di letalità e di mortalità sono praticamente nulle, al di sotto dei 40 anni. Oltretutto, ha precisato il professore, incentivare l'obbligo del Green Pass contribuisce ulteriormente a creare discriminazione all'interno delle scuole e invece, ha proseguito, il messaggio che dovremmo trasmettere è ben diverso. La scuola deve essere il luogo dell'inclusione, della valorizzazione delle diversità e non certo della discriminazione sulla base del fatto che io abbia un certificato o meno. Nella lettera inoltre vengono citati anche gli effetti collaterali e le vaccinazioni che continuano mediante richiami ancora non quantificati. Per quanto riguarda i primi, Antonioni ha riferito diversi dati pubblicati sul sito Eudra Vigilance. Si parla in Europa di circa 2 milioni e mezzo di reazioni avverse. Ci sono anche altre tabelle consultabili, una per esempio dell'OMS, dove riporta le stesse cose, che rispetto ad altri cosiddetti vaccini, quest'ultimo ha dei numeri spaventosi. Sulle vaccinazioni invece il docente ricorda che questo farmaco non impedisce la trasmissione del virus. Faccio un esempio pratico. Pochi giorni fa è uscito un articolo dell'assessore regionale Castelli che si è presentato in consiglio regionale, pur leggermente febbricitante, tranquillo perché ha il suo lascia passare. È arrivato il riscontro del tampone mentre era in seduta, morale tutti in quarantena. Quindi il discorso è anche che questa tessera dà una falsa illusione, quindi non contribuisce in realtà a combattere questa epidemia, perché anzi mi autorizza a tenere dei comportamenti che non sono neanche corretti. Ci sono anche degli articoli recenti pubblicati su riviste importanti. Sì, allora c'è uno studio che è stato fatto ormai diverse settimane fa dall'Istituto Spallanzani di Roma, che era stato commissionato dal Ministero della Sanità, dove affermava la stessa cosa, cioè che anche chi si è vaccinato alla carica virale può tranquillamente trasmetterla. E pochi giorni fa è uscito uno studio dell'ANSET, che è una rivista scientifica a livello internazionale, una delle più prestigiose, dove proprio raccomanda di non stigmatizzare coloro che hanno scelto di non farsi inoculare questo siero. Si parla spesso però di un'immunità di gregge da raggiungere mediante le vaccinazioni. Che cosa ne pensa e poi se ci sono anche altre strade? Allora, l'immunità di gregge, come ultimamente sta uscendo fuori anche a livello ufficiale, con un virus che muta in continuazione, è praticamente un obiettivo irraggiungibile. Altre strade esistono, ci sono le terapie domiciliari ormai collaudate dall'inizio quasi della pandemia, che hanno portato ottimi risultati. E se vogliamo pensare ad altre strade, visto che si parla sempre di problema di posti letto in terapia intensiva, al di là delle percentuali che vengono date, forse sarebbe il caso di migliorare la sanità, aumentando questi posti letto, creando dei reparti e ridando agli ospedali il giusto valore. Cosa che in questi anni invece non è stato fatto.